Ebbene, il quinto pallone d'oro al grande calciatore Cristiano Ronaldo Non è utopia, non è qualcosa di impossibile oppure di irrealizzabile Ma è pura realtà e questo sarà il traguardo che arriverà proprio nelle mani del grande campione in questione Dal gol infatti al Borussia Dortmund Questo nuovo, innissimo pallone d'oro, il quinto, ripeto, trofeo della storia del grande calciatore Che sta letteralmente facendo impassire a livello calcistico ma anche di bellezza Molte donne, molte ragazze infatti trovano Cristiano Ronaldo un uomo di grande bellezza, di grande sensualità E soprattutto di grande fascino Il quinto pallone dunque è un coronamento di un sogno che si avvera per il grande Cristiano Ronaldo Che sarebbe, per quanto riguarda questo quinto trofeo di fila conquistato Il quinto di fila, un vero e proprio premio in piena regola Le capacità di Cristiano Ronaldo le conosciamo tutti A livello di gioco sa veramente portare in scena un gioco piacevole, amabile Ma soprattutto un gioco calcistico che sa veramente entrare al cuore della gente Dunque possiamo considerarlo veramente come una persona, una leggenda vivente per quanto riguarda il calcio Di totale capacità Bene Opprimenti, quindi congratulazioni a Cristiano Ronaldo per aver preso O meglio, per arrivare a prendere questo nuovo quinto pallone d'oro Che è più che meritato secondo la mia opinione personale Grazie a voi tutti, un saluto, iscrivetevi e al prossimo video